wow buonasera buonasera no niente di particolare semplicemente volevamo capire come state vivendo ciao perché perché avete rotto il cazzo io sono qua per farvi parlare meglio se ne andate via io non ho voglia di parlare vattene via perché signora si si andiamo via ho capito? si ho capito perfettamente io sono qua e sono in un territorio nazionale posso anche rimanere giusto? no no non puoi rimanere questo è il nostro tempo si questo l'ho capito signora volevo sapere se voi se voi avevate perché cosa siete venuti? semplicemente per sapere come vivevate se siete contenti appunto sono venuto per voi mica sono venuto per darvi per darvi il contro spegni la telecamera se non te non rompi un po' vabbè hai capito? eh? spegni con la telecamera se non te la rompi un po' ma te mangio la mea croceo spegni con la telecamera se non te la rompi un po' è spenta ho capito? brutto pezzo di merda no 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 questo non lo fanno calmati no 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 spegni la telecamera la telecamera è spenta la telecamera è spenta la telecamera no 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 no